Io sono assolutamente contraria, anzi mi ha colto di sorpresa questo 500 euro di bonus dato appunto dal governo Renzi in questo preciso momento, in questo preciso mese. Io credo che gli insegnanti, e io parlo per me ma credo anche di poter sposare l'opinione di tanti altri, credo che gli insegnanti abbiano bisogno e volontà comunque di poter svolgere la propria didattica in posti sicuri, sicuri dal punto di vista anche antisismico, quindi la sicurezza nelle scuole prima di tutto. Io credo che anziché dare al governo Renzi questi soldi ad ogni insegnante, le desse invece alle amministrazioni perché potessero mettere a norma le proprie scuole sarebbe molto meglio, credo.